Cari amici, voglio prendere un momento per parlarvi di alcuni eventi molto interessanti accaduti recentemente che hanno forti implicazioni profetiche. Andremo ora a vedere un video unico nel suo genere da poco pubblicato su internet. È un messaggio speciale di Papa Francesco rivolto ad un'assemblea colma di ministri carismatici e pentecostali. È un appello all'unità affinché si uniscano nuovamente alla Chiesa Cattolica. È un invito perché siano uno e penso che questo aspetto sia molto significativo. Non avremo modo di mostrarvi il video per intero ma lo pubblicheremo sul sito di Amazing Facts e se volete visionarlo nella sua totalità si trova lì. Ma vorrei guardarlo insieme a voi evidenziandone alcuni punti che vorrei portare alla vostra attenzione. Iniziamo allora a vederlo insieme. Credo che Dio mi abbia condotto qui all'incontro pastorale di quest'anno nello spirito di Elia. Mi spiegherò meglio. Se osservate attentamente lo spirito di Elia era su Giovanni Battista per ricondurre i cuori dei figli verso i padri. Fermiamo un attimo il video. Tra poco sentiremo un messaggio personale di Papa Francesco. Ma per me ancora più interessante è la questione su chi sia questo Vescovo Tony Palmer. Un personaggio molto affabile che sembra avere una relazione personale con il Papa. E' stato mandato come inviato dal Papa. E' una sorta di mediatore, nonostante tecnicamente non sia cattolico ma anglicano. Ha il suo proprio ministero che è focalizzato a portare in modo specifico unità tra le chiese. E non sta andando soltanto a questo incontro di carismatici, ma sta girando in ogni modo possibile con lo scopo di portare le differenti chiese insieme. Fa un lavoro magistrale inquadrandosi come il profeta Elia con un messaggio per riportare i figli ai padri ed i padri ai figli. Un messaggio di unità spianando le differenze dottrinali. Potete ascoltare e vedere cosa ne pensate. E per ricondurre i cuori dei padri verso i figli, per preparare la via per il Signore. E sappiamo che la profezia ha sempre una doppia realizzazione. E sappiamo che Elia verrà anche prima della seconda venuta. Ed ho compreso che lo spirito di Elia è lo spirito di riconciliazione nel ricondurre i cuori degli uni verso gli altri. Questo è molto importante. Sappiamo che durante i primi mille anni vi era una sola chiesa, chiamata alla chiesa cattolica. E la parola cattolico vuol dire universale, non vuol dire romana. Cattolico significa, se sei nato di nuovo, alzate le mani se siete nati di nuovo. Siete cattolici. Non voglio soffermarmi troppo su questo perché è corretto, ha ragione. La parola cattolico, tecnicamente, vuol dire universale. Ma quello che state vedendo qui è che con un'attenta e deliberata progressione le distinzioni tra cattolici e protestanti vengono abbattute. Continuiamo a guardare. Riprendete, riscattate ciò che vi appartiene. Siamo cattolici. E poi c'è stata questa spaccatura alla fine del primo millennio. Abbiamo gli ortodossi, oriente e occidente, due chiese. Poi, 500 anni dopo, abbiamo Lutero e la sua protesta. Tre chiese in 1500 anni. Tre denominazioni, non tre chiese. E poi, dalla protesta di Lutero in poi, 33.000 nuove denominazioni. Vedete cosa sta succedendo qui, amici? La sta chiamando la protesta di Lutero. Invece di essere il movimento protestante o la riforma protestante, sembra essere dichiarata come se fosse in realtà la ribellione o la protesta di un monaco dissidente. Ma questo è stato in realtà un movimento basato su molte differenze teologiche. Andiamo avanti a guardare. Sono arrivato a capire che la diversità è divina. È la divisione che è diabolica. Non so se avete colto, amici, ma questo è veramente significativo e preoccupante. La diversità è meravigliosa, è divina, ma la divisione è diabolica? Vedete, questo non è totalmente vero. Non tutte le divisioni sono diaboliche. La Bibbia ci dice che la parola di Dio divide e è più affilata di una qualunque spada a due tagli. Gesù dice, non sono venuto a mettere la pace, ma la spada. Paolo afferma che dobbiamo uscire ed essere separati. E quando gli apostoli, ai loro giorni, posero posizioni per la verità, ci fu una divisione che si verificò tra loro e la grande chiesa. E quindi negli ultimi giorni, quando prenderemo una posizione per la verità, non saremo chiamati solo scismatici, ma diabolici. È vero quello che stavate dicendo sulla gloria. Sono d'accordo con voi. Certamente è vero. La gloria che il Padre aveva l'ha data a Gesù. La gloria era la presenza di Dio. Cos'è il rinnovamento carismatico? È quando sperimentiamo la presenza di Dio. E disse, io ho dato loro la gloria, ragione pragmatica, così che possano essere uno. È la gloria il collante che ci tiene insieme, non le dottrine. Beh, dice che è la gloria che ci tiene uniti, non le dottrine. Non so se l'ho menzionato prima. Il vescovo Tony Palmer è anche un carismatico. Parla in lingue e è a favore di questo. Il movimento carismatico è un movimento molto interessante per il fatto che in realtà è una forma di spiritismo che è entrata nella Chiesa cristiana. Difatti più enfasi viene data allo spirito che alla dottrina. Un'altra cosa penso di dover inserire a questo punto, dato che stiamo parlando di chi sia Tony Palmer, ha detto al pubblico, quando mia moglie vide che poteva essere cattolica, e carismatica, evangelica, e pentecostale, e questo era assolutamente accettato nella Chiesa cattolica, disse che voleva riconnettere le sue radici alla cultura cattolica. E così ha fatto. Quindi non c'è errore in quello che è il suo obiettivo. Ha detto che sua moglie crede che può essere tutte queste cose e riconnettersi alla cultura cattolica. Questo sarà l'obiettivo, che tutti quanti si riuniscano insieme all'interno e riconoscendo la cultura cattolica. È la gloria. Se accetti che Cristo sta vivendo in me, e la presenza di Dio è in me, e che la presenza di Dio è in voi, questo è tutto ciò che ci serve. Perché Dio sistemerà tutte le dottrine quando andremo al piano di sopra. Non vi preoccupate delle dottrine qui. Sistemeremo tutte le dottrine quando andremo in cielo. Qui amiamoci solamente gli uni gli altri. Ma la dottrina è molto importante. Gesù disse, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Quando Gesù predicò il Sermone sul Monte, le persone rimasero stupite per la sua dottrina. Quindi cancelleremo il Sermone sul Monte, perché dobbiamo semplicemente amarci gli uni gli altri, e sistemeremo le dottrine più tardi? Questo sarà il mantra che ascolterete più e più volte. Ascoltiamo. Perciò l'unità dei cristiani è la base della nostra credibilità. Perché Gesù disse, finché non saranno uno, essi non crederanno. Il mondo non crederà, come dovrebbe, finché non saremo uno. La divisione distrugge la nostra credibilità. È la paura che ci tiene separati, perché la paura, in inglese fear, è una falsa evidenza che appare reale. F-E-A-R. Falsa evidenza che appare realtà. Perché la maggior parte della vostra paura è basata sulla propaganda. Quindi ciò che stiamo realmente ascoltando qui è che gli insegnamenti della riforma protestante sono una propaganda che insinua la paura, e perciò è negativa. Non vi preoccupate di questa propaganda. Ok, continuiamo. Ora, perché è storico? Perché nel 1999 la Chiesa Cattolica Romana e la Chiesa Protestante Luterana hanno firmato un accordo che portò ad una fine della protesta. Lutero credeva che siamo salvati per grazia mediante la fede. E soltanto. Amen. Una piccola correzione. Non solo Lutero credeva in questo. Erano decine di migliaia di cristiani consacrati che volevano ritornare alla Bibbia. Haas credeva a questo. Wycliffe credeva a questo. Tyndall credeva a questo. Tutti i grandi riformatori credevano in questo. Non era solo Lutero. Ma non è tutto qui. La Chiesa Cattolica credeva che siamo salvati per le opere. E questa era la protesta. Nel 1999 hanno scritto questo insieme. Perché nella Chiesa Protestante c'è molta salvezza a buon mercato. Le persone si convertono ma non c'è traccia di frutti. E siccome non abbiamo neanche ricercato i frutti non era questo il problema. Non era necessario per la salvezza. E no, non lo è. Ma è un buon giudice del fatto che sei salvato. Quindi, che cosa hanno fatto queste due Chiese? Hanno messo le due definizioni insieme. Ascoltate. Leggo testualmente dal sito web cattolico Vaticano. Giustificazione significa che Cristo stesso è la nostra giustizia. Nella quale abbiamo parte attraverso lo Spirito Santo secondo la volontà del Padre. Insieme a noi, cattolici e protestanti luterani, crediamo e confessiamo che per sola grazia nella fede nelle opere salvifiche di Cristo e non per qualche merito da parte nostra siamo accettati da Dio e riceviamo lo Spirito Santo che rinnova i nostri cuori mentre ci prepara e ci chiama alle buone opere. Questa potrebbe sembrare proprio la protesta di Lutero ma Lutero non protestò contro una cosa ma inchiodò 95 diversi punti di protesta sulla porta della chiesa di Wittenberg. Questo sta affrontando una delle questioni ma non è l'unica questione e noterete che l'espressione e il linguaggio usati in questo accordo sono molto intricati ed evasivi perché i cattolici cercavano un'espressione che non li costringesse a rinunciare a quello a cui credevano precedentemente o a dire che c'era qualcosa di sbagliato nelle loro dottrine. Non abbiamo tempo ora di entrare nel merito ma non è esattamente ciò che appare in superficie. Questo mise fine alla protesta di Lutero. Fratelli e sorelle la protesta di Lutero è finita. Lo è la vostra? Nel 1999 questo è stato firmato dalla Chiesa Luterana dalla Federazione Mondiale successivamente circa cinque anni dopo i metodisti a livello mondiale hanno firmato lo stesso accordo ma fino ad oggi non abbiamo ancora avuto alcun protestante evangelico che prenda l'iniziativa e firmi questo accordo per concordare con i nostri fratelli e sorelle che siamo salvati per grazia mediante la fede per compiere le buone opere. e io credo che questo sia qualcosa a cui si debba rimediare. Fermiamoci un attimo. Sta veramente lanciando il guanto di sfida sta dicendo i luterani hanno firmato un accordo la protesta è finita i metodisti hanno firmato questo accordo e adesso ci aspettiamo che gli evangelici e i pentecostali firmino questo accordo così che possiamo essere tutti uniti nuovamente. La riforma protestante non è necessaria siamo tutti in armonia adesso. C'è una sfida per voi. Quindi la protesta si è conclusa da 15 anni e devo essere sfacciato qui perché io ho sfidato i miei amici pastori protestanti. Se non c'è più protesta come possono essere una chiesa protestante? Penso che sia facile per noi vedere dove questo porti. La distinzione tra protestanti e cattolici è stata portata via poco a poco. Questo è un movimento verso un'unica religione mondiale e questo è esattamente ciò che la profezia dice che doveva accadere prima del ritorno di Gesù. Il mondo è stato scosso oggi. Ci saranno soltanto due gruppi quando Cristo ritornerà. Un gruppo avrà il sigillo di Dio e l'altro avrà il marchio della bestia. Ovviamente se ci sono 33.000 diverse denominazioni cristiane qualcosa deve accadere per polarizzare questi gruppi in una di queste due fazioni. Questo è un adempimento delle profezie. Questo è il tipo di frasi, questo è il tipo di appelli che saranno usati per portare tutti quanti insieme in un corpo unificato dove si minimizzeranno le dottrine e dove si minimizzerà la Bibbia. Forse adesso siamo tutti cattolici di nuovo ma siamo riformati siamo cattolici nel senso universale non stiamo più protestando la dottrina della salvezza della Chiesa Cattolica adesso predichiamo lo stesso Vangelo predichiamo forse lo stesso Vangelo a meno che non ci siano stati dei cambiamenti radicali dal 1999 dei quali io non sia a conoscenza solo per darvi alcuni esempi di alcune delle differenze istintive che hanno fatto sorgere la riforma protestante la Bibbia insegna che non dovremmo inchinarci dinanzi alle statue questo è uno dei dieci comandamenti la Chiesa Cattolica Romana dice che dovremmo inchinarci dinanzi alle statue la Bibbia insegna che tutti hanno peccato tranne Gesù la Chiesa Romana dice che Maria è senza peccato la Bibbia dice che Gesù è il solo mediatore tra Dio e l'uomo la Chiesa Romana dice che Maria è un co-mediatore la Bibbia insegna che Gesù fu offerto in sacrificio una volta sulla croce per tutti in ebrei 7.27 la Chiesa Romana insegna che il sacerdote sacrifica Gesù sull'altare ogni volta che conduce la messa la Bibbia insegna che tutti i cristiani sono santi e sacerdoti Efesini 1.1 la Chiesa Romana dice che i santi e i sacerdoti sono caste speciali nella comunità cristiana la Bibbia insegna che tutti i cristiani dovrebbero sapere che hanno la vita eterna prima Giovanni 5.13 la Chiesa Romana insegna che tutti i cristiani non possono e non dovrebbero sapere che hanno la vita eterna la Bibbia insegna che non dovremmo chiamare nessun leader religioso padre la Chiesa Romana insegna che possiamo chiamare i sacerdoti e il Papa Padre il Vescovo Tony Palmer è anche lui chiamato Padre Tony la Bibbia insegna di non pregare con vane ripetizioni eppure la Chiesa Romana dice che possiamo dire gli Ave Maria e i Padri Nostro in maniera ripetitiva la Bibbia insegna a confessare i propri peccati a Dio e che solo Dio li può perdonare la Chiesa Romana dice che devi confessare i peccati al sacerdote la Bibbia insegna che prima del battesimo la persona dovrebbe essere insegnato il Vangelo e i Comandamenti di Cristo dovrebbero credere e pentirsi la Chiesa Romana insegna che i bambini piccoli possono essere battezzati e se muoiono prima sono mandati all'inferno gli insegnamenti riguardo il pulgatorio il limbro le peghiere ai morti non sono da nessuna parte nelle scritture ma sono reliqui del paganesimo ora ci sono grandi differenze teologiche tra ciò per cui i protestanti sono morti hanno versato il loro sangue per questi principi di verità e ciò che i cattolici e alcune delle chiese ortodosse credono dovremmo semplicemente dire che la verità non conta più amiamoci gli uni gli altri l'evangelizzazione deve essere basata sulla verità potrei iniziare a predicare su questo ma ritorniamo al video ora noi predichiamo che siamo stati salvati per grazia mediante la fede soltanto la parola soltanto è stata il dibattito per 500 anni la parola soltanto è lì potete leggerla voi stessi la protesta è finita la protesta è finita lasciate che preghi e poi faremo partire il video credo che inizieremo a vedere sempre più persone chiamate ad andare nel mondo e operare tra le chiese nello spirito di Elia per ricondurre i cuori dei padri verso i figli e i cuori dei figli verso i padri per preparare un popolo pronto per il Signore i ministeri di riconciliazione abbiamo bisogno di spendere tante energie e risorse nel ministero della riconciliazione quante ne spendiamo nel ministero di evangelizzazione o stiamo costruendo mura senza fondamenta vi sfido a trovare un costruttore di ponti a sostenerlo o sostenerla e vorrei pregare questa preghiera se siete d'accordo potete dire amen era la preghiera di un uomo morente e quando sai che stai per morire certamente fai le preghiere più importanti dice non prego solo per questi ma anche per quelli che crederanno in me per mezzo della loro parola affinché siano tutti uno come tu o padre sei in me e io in te siano anch'essi uno in noi affinché il mondo creda che tu mi hai mandato e io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me affinché siano uno come noi siamo uno gloria al padre amen ok parte di questa preghiera di gesù era certamente che siano uno che siano uniti ma in giovanni 17 17 egli dice anche santificali nella tua verità e la tua parola è verità che cosa sarà ad unirci è lo spirito di dio o lo spirito è la verità di dio gli insegnamenti sì quelli della parola ancora in giovanni 16 sta scritto al versetto 13 ma quando verrà lui lo spirito di verità egli vi guiderà in ogni verità è attraverso la verità che avremo unità è attraverso le dottrine questo è ciò che unirà le persone avvicinandoci insieme nella teologia della bibbia le dottrine di verità ci avvicineremo gli uni agli altri in gesù perché gesù è la parola fatta carne non è mentre ci avviciniamo insieme in un'emozione un carisma o una percezione di gloria quando veniamo battezzati con il dono delle lingue questo non è ciò che unirà la chiesa questa non è unità pochissimo riferimento infatti viene dato in tutto questo alla parola di dio e alla verità che ci rende liberi ora penso che stiamo per ascoltare il filmato da parte del Papa cari fratelli e sorelle scusatemi perché parlo in italiano ma non parlo in inglese ma parlerò non in italiano non in inglese ma dal cuore per prima cosa penso che l'audience fosse sbalordita quando hanno visto il Papa sullo schermo è veramente il Papa? non è una lettera scritta dal Papa il Papa stesso si sta rivolgendo a questa assemblea di fatto nel messaggio dice ho inviato il mio amico Tony Palmer un avico di vecchia data con questo messaggio viene da chiedersi che tipo di peso questa persona ha in Vaticano e se vedremo altri come lui nel futuro e ancora voglio ripetere che la maggior parte dei veri seguaci di Dio non sono membri della mia chiesa credo che ci siano cristiani sinceri e genuini in molte denominazioni distinte e diverse il Papa stesso sembra un uomo straordinario mi ricorda mio nonno assomiglia proprio a mio nonno veramente ma voglio solo assicurarmi che non siano ingannati pensando che sia così domestico e dal cuore come è fatto sembrare è molto probabile che questo messaggio fosse in qualche modo preparato che ci fossero degli appunti rivisti e fosse presentato in modo estemporaneo ma con una traccia perciò penso che questo messaggio sia strategico si poteva mettere in uno smartphone certo per farlo sembrare una videoconferenza ma continuiamo a guardare è una lingua più semplice e più autentica e questa lingua del cuore ha un linguaggio è una grammatica speciale la grammatica semplice due regole ama Dio soprattutto e ama l'altro perché è tuo fratello e è tua sorella e con queste due cose andiamo avanti questa è la frase che sento dire da alcuni cristiani quando vado ad evangelizzare nel mondo dicono non abbiamo bisogno dei dieci comandamenti non abbiamo bisogno del sabato è vero i dieci comandamenti riassumono l'amore per Dio e l'amore per il prossimo ma qualche volta queste affermazioni sono usate per sminuire l'importanza di obbedire specificatamente ai comandamenti di Dio e quindi mentre tutto ciò va benissimo sono d'accordo sul fatto di amare Dio di amare il prossimo ciò non mette da parte l'importanza di obbedire ai dieci comandamenti andiamo avanti io sono qui con mio fratello mio vescovo fratello Tony Pannan siamo amici da anni e lui mi ha detto del vostro compagno del vostro raduno con piacere vi invio un saluto un saluto gioioso e nostalgico gioioso perché è a me da gioia che voi siete riuniti per lodare Gesù Cristo l'unico Signore e pregare al Padre e ricevere lo Spirito e questo dà gioia perché si vede che il Signore lavora in tutto il mondo è nostalgico perché ma succede come nei quartieri fra noi nei quartieri ci sono famiglie che si vogliono e famiglie che non si vogliono famiglie che si uniscono e famiglie che si separano e noi siamo un po' mi permetto la parola separati in poche parole sta dicendo che li saluta con gioia poiché sono adunati insieme per adorare Gesù ma lo sta facendo con nostalgia perché sta guardando indietro nella storia a quando eravamo una famiglia dobbiamo essere nuovamente una famiglia questa è l'enfasi del messaggio separati separati i peccati ci hanno separati i nostri peccati i malintesi nella storia una lunga strada di peccato comunitario ma chi ha la colpa tutti abbiamo la colpa tutti siamo peccatori per me questa potrebbe essere la più grande affermazione sotto intesa del millennio il fatto che tutte queste persone dai 30 ai 50 milioni di persone siano state giustiziate dalla chiesa cattolica era certamente un grande malinteso o non sappiamo di chi sia la colpa proprio perché vi è una tale divergenza teologica le persone non avrebbero riconosciuto l'autorità e la superiorità della chiesa e non credo che abbiano cambiato le loro opinioni su questo punto soltanto uno è il giusto il signore io ho la nostalgia che questa separazione finisca e ci dia la comunione io ho la nostalgia di quell'abbraccio di qua nel quale parla la sacra scrittura quando i fratelli di Giuseppe affamati sono andati a Egitto qui il Papa fa un passaggio verso un discorso brillante sta parlando di un abbraccio e poi si riferisce alla storia di Giuseppe e mentre ne parla cercate di capire le immagini che vengono alla mente dell'ascoltatore sembra quasi che stia identificando se stesso e la chiesa cattolica nella figura di Giuseppe incompreso e tradito dai suoi fratelli ma i suoi fratelli cominciarono ad essere affamati di ciò che solamente Giuseppe avrebbe potuto dar loro e vennero e vennero si inginocchiarono a Giuseppe ed egli divenne il loro sovrano sono stati appunto separati dal loro fratello ma vennero e lo abbracciarono lui li abbracciò e li perdonò per quello che avevano fatto quindi mentre guardate questa piccola analogia decidete voi chi è Giuseppe nel racconto per comprare per poter mangiare ma andavano a comprare avevano i soldi ma non potevano mangiare i soldi e lì hanno trovato qualcosa più del pasto hanno trovato il fratello tutti noi abbiamo dei soldi i soldi della cultura i soldi della nostra storia di tante ricchezze culturali anche religiose tradizioni diverse ma dobbiamo trovarci come fratelli e dobbiamo piangere insieme come ha fatto Giuseppe quel pianto che unisce il pianto dell'amore io vi parlo come fratello e vi parlo così semplicemente con gioia e nostalgia facciamo crescere la nostalgia perché questo ci spingerà a trovarci a abbracciarci e a lodare Gesù Cristo come unico Signore della storia vi ringrazio tanto per sentirmi vi ringrazio tanto per lasciarmi parlare la lingua del cuore e vi chiedo anche un favore di pregare per me perché ho bisogno delle vostre preghiere io prego per voi lo farò ma io ho bisogno delle vostre preghiere e pregare al Signore perché ci unisca a tutti e avanti siamo fratelli ci diamo spiritualmente questo abbraccio e lasciamo che il Signore finisca l'opera che Lui ha incominciato perché questo è un miracolo il miracolo dell'unità è incominciato e dice uno scrittore italiano il Manzoni famoso dice questa frase in un romanso un uomo semplice del popolo dice questa frase non ho trovato mai che il Signore abbia incominciato un miracolo senza finirlo bene Lui finirà bene questo miracolo dell'unità amici ho cercato di lasciar parlare il Papa senza interromperlo poiché ho ritenuto fosse importante che afferriate pienamente il concetto e di certo non posso spiegarmi meglio di come Lui abbia già fatto vi è un appello un abbraccio ecclesiastico un miracolo dell'unità una fusione delle nostre lacrime una fratellanza questo è veramente un appello ai protestanti prodighi affinché tornino a casa quando i fratelli di Giuseppe lo trovarono alla fine si trasferirono giù in Egitto dove stava Giuseppe ma lasciamo che finisca il discorso vi chiedo di benedirmi e io vi benedico di fratello a fratello un abbraccio grazie gloria 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 grazie Tony forza questa persona ha chiesto di pregare per Lui oh padre ora vediamo salire sul palco il pastore Kenneth Coppler che fu un discepolo di Oral Roberts e probabilmente uno dei principali leader carismatici del Nord America è anche conosciuto come un predicatore della prosperità ma è interessante notare che il pastore Kenneth Coppler e Papa Francesco hanno entrambi 77 anni quindi sono coetani della stessa generazione la platea colma di leader delle chiese pentecostali e carismatiche dopo aver ascoltato il messaggio del Papa si alza applaudendo questi non sono laici questi sono pastori e dirigenti delle chiese alzano le loro mani in aria sembra che stiano abbracciando il messaggio ma andiamo avanti padre noi rispondiamo alla sua richiesta e siccome non sappiamo come pregare per lui non possiamo fare altro che essere d'accordo con lui e con la sua richiesta e per il suo cuore dedito all'unità del corpo di Cristo riuniamoci tutti nell'unità della nostra fede alleluia beh mi sembra che sia d'accordo con quello che ha detto il Papa poc'anzi cioè riunirsi in un'unità di fede e questo è quello che possiamo cogliere dalle sue affermazioni quindi padre noi tutti ora secondo la scrittura siccome non sappiamo come pregarti noi ti preghiamo nello spirito noi riceviamo le parole dello spirito santo riceviamo le preghiere di fede riceviamo il Signore noi riceviamo parole che non sono nostre non trovo nella Bibbia nessun esempio di Gesù che preghi in questo modo quando Gesù disse che avrebbero parlato altre lingue intendeva che i discepoli avrebbero ricevuto in maniera sovrannaturale l'abilità di parlare altre lingue conosciute e che loro non conoscevano non avendole studiate per lo scopo di praticare il Vangelo ad altre persone in maniera sovrannaturale 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 oh hallelujah 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 glory 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 hallelujah grazie Signore grazie Padre grazie Padre grazie Signore Gesù Cristo grazie Signore Gesù Tony prendi il tuo telefono e vieni voglio che tu porti indietro un video messaggio vieni qua su e facciamolo in questa maniera affinché lui possa vedere l'intera congregazione vediamo ora un'idea brillante del pastore per uno scopo di marketing ora Kenneth Coppler dice di voler rispedire un messaggio personale al Vaticano al Papa quindi devo ritornare in Vaticano? mio caro Signore mio caro Signore grazie mille dal profondo del nostro cuore tutti questi leader rappresentano decine di migliaia di persone che l'amano che credono in Dio con lei e in risposta abbiamo appena pregato per lei e con lei e lo abbiamo fatto nello spirito crediamo che riceviamo come la parola di Gesù in Marco 11 24 qualsiasi cosa desideri quando preghi prega e la riceverai il nostro desiderio assieme a lei è il quarto capitolo della lettera agli Efesini finché tutti giungiamo all'unità della fede nella pienezza della conoscenza del figlio di Dio allo stato di uomini fatti all'altezza della statura perfetta di Cristo grazie Signore noi la benediciamo riceviamo la sua benedizione è davvero molto molto importante per noi e noi benediciamo lei con tutto il nostro cuore con tutta la nostra anima con tutta la nostra forza e la ringraziamo Signore noi ringraziamo il Signore per lei e quindi tutti di noi dichiariamo insieme sì benedetto ancora una volta tutti insieme sì benedetto amén 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 alleluia devi venire in Vaticano verrò certo sono disponibile il Vescovo Tony ha invitato ora Kenneth Coppler a venire in Vaticano sarà interessante vedere se questo succederà e cosa ne scaturirà penso che nessuno ora possa dubitare del fatto che abbiano abbracciato il messaggio del Papa per l'unità dicendo noi vogliamo la tua benedizione e noi vogliamo benedirti grazie amén Tony grazie oh grazie Signore benedetto questo luogo quest'oggi amén ve l'ho detto che non l'avreste mai dimenticato ti dico che i cieli giuiscono per quello che sta succedendo oggi qui oh grazie Signore alleluia sapete la cosa più emozionante che quando io ho cominciato il mio ministero 47 anni fa questo era impossibile giustamente ha riconosciuto quante cose siano cambiate da quando egli iniziò il suo ministero perché i carismatici e i pentecostali erano molto più protestanti e pensavano che la bestia di apocalisse fosse la chiesa cattolica romana le cose sono cambiate radicalmente lo potete vedere chiaramente dai loro insegnamenti bene amici voglio chiudere leggendovi qualcosa che vi suggerisco di studiare ulteriormente questo si trova nel capitolo 35 del libro del gran conflitto e poi mi direte cosa ne pensate a riguardo oggi i protestanti sono più favorevoli alla chiesa di roma rispetto al passato in quei paesi in cui il cattolicesimo rappresenta una minoranza e i sostenitori del papa assumono un atteggiamento conciliante per estendere il loro influsso si nota una crescente indifferenza per le dottrine che distinguono la chiesa riformata dalla gerarchia papale si diffonde sempre più l'idea che sulle dottrine fondamentali non ci sia più quella grande differenza che si presentava e che qualche piccola concessione da parte nostra potrà rendere possibile una migliore intesa con Roma un tempo i protestanti attribuivano un grande valore alla libertà di coscienza conquistata a caro prezzo insegnavano ai loro figli a detestare il papato e ritenevano che cercare un accordo con Roma equivalesse a un atto di infedeltà nei confronti di Dio ora invece come sono diversi i sentimenti espressi di nuovo il gran conflitto pagina 440 amici oggi questa profezia si sta adempiendo sotto i nostri occhi alla luce di tutto quello che sta succedendo capisco ora perché il Signore ci ha aiutati in questi ultimi tre anni e mezzo a produrre questo DVD di 90 minuti è un documentario che è intitolato l'apocalisse la sposa la bestia e Babilonia e se lo guardate capirete perché questi temi sono così significativi e quando siamo vicini ai tempi della fine ma in chiusura desidero sottolineare che questo è solo un altro punto di riferimento della profezia ci sono ancora molti aspetti profetici che debbono adempiersi ma anche sapere i dettagli delle profezie non sarà questo che ci salverà abbiamo bisogno di avere un rapporto personale e quotidiano con Gesù basato sulla sua verità e sulla sua parola state studiando la parola camminate con il Signore questa è una verità che vi farà liberi amici abbiamo bisogno di pregare che se c'è qualsiasi cosa che ci trattiene dal abbandonarci totalmente a Lui venga rimossa prendete la vostra croce e seguitelo questa è una scelta che va fatta oggi vi siete mai chiesti come sarà quando le profezie si saranno adempiute cosa vi potete aspettare di più che un messaggio personale dal Papa ai protestanti penso che queste cose stiano succedendo proprio oggi non è che non è che Grazie a tutti.